E' stato un 2015 molto positivo per il Pescara, un anno nel quale è mancata solo la ciliegina sulla torta di una promozione sfumata per un soffio lo scorso giugno, quando la Fortuna ha deciso di sorridere al Bologna e voltare le spalle ai Biancazzurri. Nonostante le partenze eccellenti nel corso dell'estate, il nuovo corso instaurato da Massimo Oddo ha continuato a mettere risultati più che lusinghieri, anche per via di una rosa allestita con un'età media bassa ma ricca di qualità e talento. Così il Pescara chiude l'anno solare avendo fatto più punti di tutti, 70, e più gol di tutti, 63. E al giro di Boa è la quarta forza del campionato con 37 punti ad attivo. Meglio hanno fatto solo Cagliari, Crotone e Novara. Alle spalle squadre all'inizio quotatissime come Bari, Cesena e la delusione spezia. E la sensazione è quella che se Campagnaro avesse giocato di più e non fosse stato limitato dagli infortuni, il bottino poteva essere ancora più pingue. In fondo i numeri sono eloquenti, con l'argentino a guidare la difesa, i biancazzuri hanno sempre vinto e incassato un solo gol a Lanciano. Anche il presidente Sebastiani può gongolare per le esplosioni di Caprari e del capocannoniere Lapadula, giocatori che sul mercato valgono già tanto, sul campo viaggiano a suon di gol. A proposito di mercato, il primo nome in entrata, in attesa dell'apertura ufficiale della finestra invernale, fissata per il 4 gennaio, è quello del centrocampista marocchino Ismail Ekmaidat, che la Roma acquisterà dal Brescia per poi girarlo in prestito al Pescara. Giocatore di grande qualità e che potrà inserirsi nel gruppo anche grazie all'ex compagno di squadra Ben Ali, che ritroverà in riva all'Adriatico. Il tecnico Oddo poi vorrebbe alla sua corte Antonio Piccolo. Sul giocatore della Virtus Lanciano c'è una concorrenza spietata di Novara e soprattutto Spezia, che sul piatto mettono un ingaggio allettante per il giocatore. Il presidente Sebastiani proverà a far valere i buoni uffici con il DS Frentano Leone e a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche, come il difensore Pesoli e l'attaccante Forte, ma non sarà facile. Interessano poi il fantasista Verde, che potrebbe arrivare anche egli in prestito dalla Roma, e l'esperto difensore Domizzi dall'Udinese. I vertici bianca-azzurri tengono poi d'occhio gli sviluppi della vicenda Mandragora. Il Genoa, proprietario del cartellino, e la Juventus hanno già trovato l'intesa per il passaggio in bianco-nero del gioiello di Scampia, il quale comunque con grande probabilità resterà in prestito a Pescara fino a fine stagione. Tuttavia non si può escludere a priori che il giocatore indossi sin da subito la casacca bianconera. Oddo però conta di averlo ancora con sé, un giocatore che nel girone è andata confermato anche in bianca-azzurro di essere un vero e proprio predestinato. Grazie.